buongiorno a tutti amici wine lovers appassionati di vino, enologi, sommelier e soprattutto amici bevitori oggi facciamo un piccolo viaggio alla scoperta del vitigno nebbiolo che è uno dei vitigni più importanti in italia ma soprattutto in piemonte è il vitigno col quale si producono due fra i vini più famosi ed apprezzati in tutto il mondo che sono il barollo e il barbaresco quindi pronti per iniziare andiamo a scoprire come è fatto il nebbiolo eccolo qui con i suoi acini dal colore blu scuro notate l'aspetto dell'acino è un po' opaco è come se ci fosse una leggera nebbiolina sopra e appunto l'effetto nebbiolo e questa nebbiolina è una proteina in realtà che si chiama pruina e che serve a proteggere il chicco dalle intemperie e a impedire che la buccia si rompa si trova in tutte le uve però nel nebbiolo questa caratteristica è particolarmente spiccata per cui alcune teorie dicono che il nome del nebbiolo potrebbe derivare da questa nebbiolina sugli acini oppure più poeticamente può derivare il nome debbiolo dal fatto che questa uva è tardiva e quindi viene vendemmiata nei periodi delle prime nebbie tra la prima decada di ottobre e addirittura anche fino a novembre e ora non uccidetemi perché parliamo di nuovo di geografia però prima di iniziare con la geografia a dire quali sono i posti più importanti dove viene prodotto il nebbiolo vi volevo dire e volevo soprattutto dire un enorme grazie a chi produce i vini a partire dal nebbiolo perché quest'uva è molto difficile da coltivare infatti è un'uva dalla maturazione lenta i grappoli ci mettono molto per svilupparsi richiedono molto calore richiedono un'esposizione al sole molto particolare altitudini di solito comprese tra i 300 e 450 metri e anche una buona ventilazione guardate come sono ravvicinati gli acini tra di loro se non ci fosse il vento tra un acino e l'altro si potrebbero annidare delle muffe che rovinerebbero il grappolo per cui anche il fatto che la zona dove si coltiva sia molto ventilata è estremamente importante inoltre i vini che sono prodotti a partire dal nebbiolo richiedono anche particolare affinamento invecchiamento in legno in botte in botti piccole in cemento quello che appunto in gergo la parola che viene detta affinamento e quindi si ha bisogno anche di tanta pazienza ad aspettare che il vino sia pronto quindi rinnoviamo questo grande grazie a chi lo produce e ora andiamo a scoprire dove si produce il nebbiolo quali sono le zone dove questo vitigno dà dei risultati eccezionali la zona più importante e nemmeno a dirlo è la zona delle langhe eccola qui ne abbiamo già parlato negli altri video e soprattutto le zone più importanti sono nei dintorni di alba in particolare vi voglio segnalare che per quanto riguarda la produzione del barolo questo vino barolo si può produrre solamente in 11 comuni mentre il barbaresco si può produrre solamente in tre comuni più una frazione di alba parleremo dettagliatamente del barolo del barbaresco poi in un altro video se scavaliamo il fiume tanaro che è qua andiamo nella zona del roero e anche qui abbiamo dei vini come il roero di ocg nebbiolo e molto importanti e con delle caratteristiche anche diverse ma sempre veramente buoni e di altissima qualità inoltre se andiamo più a nord nel nord del piemonte adesso ci spostiamo e nelle province di novare di vercelli in particolare nella zona qui di gattinara e anche nella zona di gemme vengono prodotti dei vini di altissima qualità oltre a questi due che sono delle di ocg abbiamo anche un'infinità di vini doc che si producono appunto sempre da queste parti altro vino importantissimo viene prodotto nella zona del canavese e qui il nebbiolo è un nebbiolo di montagna infatti qui la viticoltura è una viticoltura eroica e dove il nebbiolo viene coltivato su terrazze che sono appunto a strapiombo e sono sorrette da piloni il nebbiolo in questo caso viene chiamato picco tendre o nebbiolo dal picciolo tenero mentre mi sono dimenticata di dirvi da poco fa che nella zona di gattinara e comunque nel nord del piemonte il nebbiolo si chiama spanna e invece nella zona delle langhe del roero abbiamo tre varietà che sono la varietà lampia la varietà michette la varietà rosè la varietà rosè adesso è in disuso ma torniamo al vino di montagna è questo nebbiolo di montagna e che si produce appunto nel canavese lungo il corso della dorabalte poi scavallando si produce anche in valle d'aosta e sempre il nebbiolo dal picciolo tenero nella zona di donna vi faccio vedere due foto per farvi capire la bellezza di questi vitigni di montagna che si inerpicano appunto così e qua è una foto scattata a carema anche questa foto scattata a carema vedete queste terrazze sorrette da piloni e questi gradoni e lungo tutta questa strada si può camminare in mezzo ai vigneti quindi immaginate la fatica di questi produttori che tutti i giorni vengono qui a curare la vite e poi anche a vendemmiare e sempre parlare per parlare di viticoltura di montagna e quindi viticoltura eroica abbiamo dei nebbioli famosissimi importantissimi nebbiolo varietà chiave nasca in valtellina in particolare lungo il corso dell'adda in montagna sempre sono dei vini di montagna in provincia di sondrio in particolare nella zona di chiuro che si trova a est di sondrio anche qui addirittura ci sono alcuni produttori che fanno la vendemmia con gli elicotteri da quante la difficoltà di raggiungere le zone dove è coltivato il nebbiolo quindi vi lascio ancora qui una slide con il repilogo di dove si trova il nebbiolo in piemonte abbiamo detto langhe e queste sono le varietà roero canavese alto piemonte e poi vediamo ancora valle d'aosta al confine col piemonte come abbiamo detto e in lombardia lo troviamo in particolare nella zona della valtellina varietà chiave nasca e anche intorno al lago di seo nelle terre di franciacorta quindi per questa puntata è tutto ci sentiamo nel prossimo video dove andiamo a scoprire delle curiosità sui famosi vini fatti col nebbiolo e non parleremo di leggende di questi vini e quindi non mancate alla prossima ciao ciao